Incontro in prefettura Chieti promosso dal prefetto Giacomo Barbato per la condivisione delle attività e dei percorsi educativi intrapresi nelle scuole in vista della 24esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie in programma il prossimo 21 marzo all'Aquila. Oltre ai dirigenti scolastici e a una rappresentanza di alunni e docenti delle scuole coinvolte presenti anche altre personalità tra le quali la referente dell'Associazione Libera Chieti Attilio Romanò Gilda Pescara. Ascoltiamo il prefetto. Il mese scorso con la dirigente del provveditorato, la rappresentante di Libera, il procuratore della Repubblica, il comandante provinciale dei Carabinieri e i dirigenti degli istituti scolastici abbiamo tracciato un programma che le scuole nel frattempo hanno realizzato. L'occasione di oggi, peraltro con la presenza degli studenti, è proprio per dare la possibilità agli istituti che hanno partecipato a questa iniziativa di poter rappresentarci e descriverci le attività che hanno svolto in funzione della giornata del 21 all'Aquila. Come sapete l'iniziativa invece nazionale si tiene a Padova. Libera, sottolinea il prefetto Ebaluardo, contro la mafia ma anche a più ampio raggio per la legalità. Libera che io conosco perché ho lavorato con Libera a Reggio Calabria quando ero direttore vicario dell'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, conosco il suo amico di Don Luigi Ciotti e quando si parla di Libere che peraltro è un network di associazioni si parla di Libere sempre soltanto o soprattutto in funzione antimafia. Sicuramente Libera è questo ma Libera è ben altro. Cioè Libera significa legalità. Allora nell'ambito del discorso molto più ampio della legalità che peraltro poi è uno dei temi che le scuole a tutti i livelli realizzano, ci sono dei progetti per la legalità come sappiamo. Secondo me, e questo è giusto per dare una provocazione, il bullismo rientra assolutamente in questo discorso. Ecco per quale motivo è così importante che le scuole aderiscono. Non alla rete di Libera ma è un discorso di legalità che non si limiti semplicemente al progetto chiuso all'interno del recinto scolastico. Grazie. 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 Grazie.